Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale oggi ragazzi Siamo qui con un video sul wrestling Oggi ragazzi parleremo dei Nexus Non so chi se li ricorda quella Starland Cringe, per quanto mi ricorda troppo cringe Molti Nexus li sono stati Sicuramente ci sono stati Quei Nexus lì indimenticabili che vi dirò adesso King Barrett, Daniel Bryan, Michael Nuxley Davido Tunga Veramente quelli là erano Ryback, Kurtis Axel, erano i migliori ragazzi Era una banda chiamata Nexus con la N Che andava sempre diciamo a It's Later ragazzi anche It's Later Che prima ragazzi ero cattivo Vi ricordate prima che It's Later com'era Stavano in Nexus poi Andavano con Ginder Mullen in quella banda lì di scemi Con Ginder Mullen, insieme a Ginder Mullen, insieme a Kurtis Axel Insieme a quell'altro là Che è una banda di scemi che perdevano ogni match Ah pure con Cosa Con Dallas Poi si è ripreso un po' stando con Rhyno Nel It's Later e Rhyno L'ho vinto anche il titolo da Tima SmackDown Veramente It's Later il primo era veramente cattivo Era praticamente una banda Chiamata Nexus C'era anche quella che c'era Brie Wyatt Però Brie Wyatt Era Brie Wyatt quando ancora non era per niente maligno Per niente per niente Era una banda che praticamente Ogni main event Ma non soltanto Ogni pay per più Soprattutto anche Vi ricordate bene I match del sotterramento Il sotterramento Per il World Title L'Hack Week Championship Tra Kane contro Undertaker Hanno fatto vincere Kane I Nex sono venuti Hanno nominato Undertaker Sempre Sempre a nominare ogni pay per più Ragazzi vengono Vi ricordate quella volta che hanno spaccato Tutto Hanno spaccato tutto Contro John Cena Hanno spaccato tutto il ring ragazzi Tutto il ring Hanno spaccato tutto Cioè Quelli lì dove nella storia Hanno troppo cringe per quanto mi riguarda Perché Hanno vinto anche il tag team Vi ricordate King Barrett Hanno vinto il titolo Di coppia Cringe veramente ragazzi Quell'anno lì Quando c'erano i Nexus Veramente molto cringe Beh venivano sempre a rovinare tutto Praticamente venivano Ragazzi A se non mi piace Comunque Se vi ricordate questi Nexus Veramente malefici Io odiavo tantissimo Ogni giorno venivano E poi una storyline Che si ripete sempre Come quella di Dream McIntyre Quindi A se non mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Seguitevi su Twitch DarkFusion23 E ragazzi Stasera saremo in live Stasera Per vederci il primo tempo Soltanto Di Alle 10 Di Real Madrid Valencia Ragazzi In live Primo tempo Sicuramente saremo in live Noi ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao ragazzi